Avete già capito che aveva un microfono in mano ed è stato pericolosissimo con questo microfono? Con il numero 24, Lorenzo! Vi do qualche informazione per dirvi qualcosa in più del prossimo calciatore. 12 stagioni in azzurro, 512 presenze, 120 gol. Con la fascia del capitano, il numero 17, Marek! 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 Grazie a tutti.